Predappio è il luogo di nascita di Mussolini. Mussolini, dopo che fu giustiziato dai partigiani, fu sepolto in un cimitero di Milano. Il suo cadavere venne preso da un gruppo di neofascisti e soltanto all'inizio degli anni 50, quando era presidente del Consiglio Adonezzoli, propose di portare il cadavere di Mussolini a Predappio e di fare lì la sua tomba. Questo ha significato che praticamente tre volte l'anno la nascita e la morte di Mussolini e la ricorrenza della marcia sul Roma ci sono state delle manifestazioni neofasciste in ricordo di Mussolini. La popolazione di Predappio è stata quasi sempre, fino a qualche anno fa, a maggioranza di sinistra. Però negli anni 90 del secolo scorso fu permesso ad alcuni negozi di vendere immagini, ricordi, simboli del fascismo e questo ha creato una situazione imbarazzante perché alcuni anni fa, per esempio, in questi negozi erano nelle vetrine immagini fortemente ed esplicitamente antisemite o razziste. Alla fine si è trovato un accordo perché il sindaco poteva proibirlo, che quelle immagini non si potevano mettere, però dentro i negozi si continuano a vendere le statuette di Mussolini, il manganello, manifesti, il calendario con le foto di Mussolini. Non si ha il coraggio di fare una scelta drastica, o meglio, la scelta era stata fatta con l'idea di costruire una alternativa memoriale alla tomba di Mussolini e cioè a costruire un museo del fascismo sempre a Predappio. La vecchia casa del fascio e dell'accoglienza, un grande e molto bello anche edificio dell'epoca fascista che era stato costruito a metà degli anni 30 e aveva pensato in questo casa del fascio, in questo grande edificio, di costruire un museo del fascismo, cioè di dare una prospettiva di conoscenza storica e quindi di uscire, di superare dalla contrapposizione tra memoria fascista, simboli fascisti o protesta antifascista. Però nel momento in cui poi doveva essere attuato due cose l'hanno impedito. Uno, che questo progetto è stato attaccato non soltanto dalle forze di destra ma anche da molte parti della sinistra perché ritenevano che fare un museo storico sul fascismo rischiava di celebrare comunque in qualche modo Mussolini e il fascismo. E poi perché nel momento in cui dovevano e stavano per cominciare i lavori ci sono state tre anni fa ormai le elezioni e purtroppo il sindaco uscente Frassineti non poteva più essere eletto perché aveva già fatto dieci anni il sindaco e il sindaco proposto dalle sinistre non è riuscito e la vittoria è andata per la prima volta a un esponente vicino alla Lega o alla destra. Grazie. 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 Grazie.